5 milioni sono, numero 42 sono Selenia, Valeria, Delia, Marco, Chiara, Sebastiano, Francesca, Sara, Sabrina, Marina e Ariane sono Mary, Touko, Flareon, Michael, Red, Professional Beat, Birch, i Pokémon, i Pokémon! Non finisco più, i Pokémon! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Bravissimi, bravissimi i Pokémon, siete tantissimi, veramente bravissimi! Grazie a tutti! 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 Ragazzi, io vedo dietro e ho visto un personaggio che presenteremo alla più avanti! C'è un cosplay che io stimerò! Cioè, non conto nulla, sappiate! Lo ribadisco ogni volta però! È un personaggio che io stimo! Andiamo avanti! Numero 57! Giancarlo e Rayman in forma umana da Rayman, Ravid, Rabbids! Che... Ravid, Ravid! Ravid, Ravid! 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 Tagliamo tutti, capisci? Facciamo i tag, andiamo avanti! Allora, siamo arrivati numero 58 di Confermi! Sì! Lei e Sofia con White Rock Shooter da Black Rock Shooter! Bravissimo! Grazie! Ravid! 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 No, vabbè, ah, c'è Alessio giustamente che sta facendo gli spazi di manovra tipo avanti, avanti, me la parcheggia qui signora, tipo, tipo parcheggiato la butina, ci siamo? Ci siamo? Fatti dare la mancia però, allora noi abbiamo, io vedo una persona, deve essere quella, ok, ci siamo, procediamo, ok, numero 60, è il personaggio che dicevo io che stimo, lui è Caetano. No, 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 c'è il 59, vabbè, faccio io, numero 59, Maria Antonietta, con Biancaneve, da Biancaneve. Ma io lo faccio per farti sempre a te. Eh, sì, capisci bene. Adesso, visto che non ve lo meritate, però facciamo un cambio, siccome mi hanno chiesto una coperta, cioè... rag Glazrico mi diceva che ha freddo perché ha petto nudo. Facciamo un cambio, voi, andate là sotto e loro fanno i giulati allì. Volete farlo? Sì, 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 sì. E invece mi attaccate perché faccio il boom quando sbaglio io, hai capito? Va bene, intanto andiamo avanti. Chiara è andata via a farsi un cicchietto. Sto lavorando, scusami, eh. Dicono tutti così al baretto, sto lavorando. finalmente numero 60 lui è Gaetano, Melion Cobretti tratto da firma di Silvestre Stallone il cobra e ne sai qualcosa buon applauso tu lo conoscevi questo film? si come no allora non sai nulla non mi coscienza ma io lo so in realtà allora numero 61 Angela con Lady da Daniel May Cry 3 va bene va bene allora c'è il numero 62 che è veramente un gruppo numerosissimo infatti lo presenta Chiara vai Chiara va bene va bene numero 62 sono Fulvio, Elisabetta, Fabio, Danilo, Eleonora, Filippo Salvo, Antonino, Giovanni ed Emilio con un gruppone da Soliter un gruppone gruppone e con un gruppo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.